eccoci qua bentornati dall'ostro luigi free 85 mi sto preparando ad andare al motor show ho trovato qualcuno che mi accompagna e che mio amico non riesce a venire quindi alla fine due miei amici non riescono io al motor show ci tengo casino ad andare quindi ho chiesto rotto le scatole a mio padre e mi ha detto si ti accompagno e quindi vado con il mio vecchio con mio papà e ci rivediamo fra qualche istante che andiamo proprio direttamente dentro al motor show fatemi solamente partire infatti sono ancora a qualche aspetto con la mia macchinina che ci accompagnano mi accompagna mia mamma e dopo ci smola lì al motor show e tempo di pagare l'entrata tra virgolette e poi dopo appena sono dentro vi faccio un video vi farò vedere un motor show quest'anno come è ambientato che hanno detto che ci sono forti di macchine anche del 900 insomma auto d'epoca merita e ne approfitto anche per indagare su una nuova macchina da prendere quindi si insomma il vostro luigi free 85 vi stupirò con questi video con questo video vi stupirò a dopo ragazze dopo dopo amici è probabile che io faccia di questo video due spezzettoni perché c'è anche un sacco di foto da farvi vedere e di conseguenza farò due video motor show parte 1 motor show parte 2 quindi divertitevi superata la fila adesso entriamo a motor show con una compagnia dopo eccoci qua siamo all'interno ce l'abbiamo fatta io e papà la ci sono già delle prime mostre adesso qui apriremo la mappa che è come potete vedere la mappa è un casino noi ci divertiremo a girarcelo tutto e vi farò vedere pian pianino un po tutto adesso toglierò l'inquadratura su di me e faremo parole inquadratura su quello che vedremo ok allora dopo ecco qua all'inizio del motor show a parte dell'ingresso pieno di persone c'è una sorta di final countdown per vedere la nuova kia non la faranno vedere fino a due minuti o un po di più si due minuti e 40 qualche secondo vedete ci stiamo propinguando a vedere le nuove macchine spettacolo assurdo ma dove porta il vostro luigi frio 85 questa è una bella macchina la andiamo a vedere immediatamente eccola qua la nuova kia spettacolare archio kia è uno spettacolo sta macchina veramente merita spettacolo meraviglioso a divertirci qua al motor show saluta saluti matti ci divertiamo e farò vedere adesso un po di scherzi di foto soprattutto perché troppo grande da far vedere tutto quanto ci divertiamo ci vediamo dopo la mitica nuova set leon no ho sbagliato se di prima sono uguali guardate che spettacolo la nuova macchina della volvo la nuova saty bizza spettacolare bella rifinitura tutta in terra fatta bene la stelvio l'alfa stelvio qui abbiamo invece la bello a 3008 l'audia 8 che è una gran macchina anche questa è una gran macchina anche questa e la ci sono tutte le auto sportive adesso è troppo grande per fare un video completo del motor show ma proverò a portarvi qualcosa di spettacolare come questa è la yokama con l'auto della mercedes sportiva racer tutte auto da racer qua ecco là ci sono anche delle belle peore normale non fa un simulatore e via andare eccoci qua che sono pronti a correre sono in due sentite i motori che rugiscono ecco li partite spettacolare forse l'ingresso è anche riservato ai riservi ecco dov'era che non lo vedevo l'altra volta guarda un po' su spettacolare spettacolare in questo senso anche se da terra e poi gli a7 abbiamo visto Ted prima un assetto diverso dunque probabilmente non era era troppo da terra quello di Pacega sì non solo le gomme sono determinanti ma anche l'assetto soprattutto quest'anno dove è proprio andare anche l'asfalto rispetto alla terra e indubbiamente c'è chi si è preparato in maniera che in un altro ma questo è bello anche dei rally è bello è importante invece questa sfida perché sono due terraioni e sono due piloti molto bravi e tra gli titolati anche se in maniera certa e tra gli specialisti dello sterrata di cosquenza sarà una sfida proprio al pulmi cotone e fino all'ultimo penso che non si sappia chi possa vincere beh c'è da dire che Andrea Dalmazzini è in uno stato di forma davvero incredibile è carico non solo del titolo italiano raggiunto ma anche nella vittoria di ieri nel Propeus il gruppo Max Lentina che colpo Max Lentina lo stavo dicendo è sempre molto determinato generoso non si risparmia di certo il campione del mondo produzione del 2014 dunque un mondiale che si corre sul terra soprattutto dunque stanno dando il massimo ai due e chiaramente Max sa che sta lottando contro una giovane arrembante, il modenese, 24 anni che sicuramente ha dimostrato tutti i suoi uomini, ma Max si è arrivato in fuoristrada, ma è un tipo italiano, dunque sicuramente il Toscantri è stato il primo titolo per il pilota modenese, ma vedete come spingono al tornantone Michelino, proprio Andrea Dalmazzini che spazzola via tutto quello che può dalla curva di riferimento ora direttamente sotto il Polte Modul, direttamente per quanto riguarda il punto passaggio, non c'è più che la sfida è veramente importante, ma Dalmazzini 5-2-38, dunque sta davvero in uomini, il suo ritmo è questo. Qualche danno, fortunatamente senza andare a incidere comunque sulle prestazioni, comunque danno qualche danno alla parte voce della carrozzeria, la bandiera Scacchi che va a sancire la vittoria della mancia per Dalmazzini con 2,8 secondi di vantaggio su Rendina 49,9 il crono di Dalmazzini e quindi ora si parte per la seconda mancia. La macchina è più grande, ci mancherebbe, la macchina è più grande, è perfetta, è grande come non so cosa sta macchina, spettacolare. Un attimo siamo sempre qui al Motor Show e ci stiamo preparando a fare altri video su quello che può essere di mio interesse, quindi farò un giro ancora e vedrò cosa trovo di buono. Intanto andiamo in giro. Il padiglione 21, tutte autostoriche, Fiat, Lancia, Citroen, Ford, tutte autodepoca, autostoriche, tutto il padiglione 21. E adesso vi ci porto a farle vedere, guardate le foto.